Venditalia 2022 continua. Ci troviamo allo stand di Nero Nobile, una torrefazione di Vicenza presente da ormai oltre dieci anni sul mercato della distribuzione automatica e ci troviamo in compagnia di Nicola Zovi, il responsabile per le esportazioni dell'azienda che accolgo con un benvenuto Nicola. Buongiorno a tutti, siamo felici di essere qui a questa edizione di Venditalia dopo questi anni difficili di blocco per il Covid e quattro anni persi senza vedere i nostri partner, i nostri distributori, siamo felici di aver visto questa buona affluenza dei visitatori esteri e abbiamo presentato nuovi prodotti e innovazioni sia di packaging e capsule compatibili in espresso e alluminio, prodotti dedicati per il vending e abbiamo visto molte innovazioni anche sui macchinari e molto movimento, molto interesse. Ecco, alle nostre spalle come potrete osservare c'è tanto fermento, ci sono tanti visitatori che richiedono attenzione su tutte quelle che sono le novità di Nero Nobile, parliamone. Certo, abbiamo studiato una linea l'anno scorso di prodotti dedicati al vending, abbiamo iniziato a rifare tutti i packaging, quindi siamo presentati con un nuovo vestito e il gruppo è cresciuto, Nero Nobile ha iniziato a implementare la linea prodotti sia di caffè in grani, insolubili per il vending e di capsule e ha aumentato tutte le certificazioni, quindi adesso ha aumentato i prodotti bio, prodotti vegani, prodotti proteici e tutti i prodotti dedicati al mondo salutare, quindi palestre o prodotti senza lattosio per persone che hanno intolleranze, per avvicinarsi a questi mercati che non sono più una nicchia, sono dei mercati sempre più importanti. Senza dimenticare che la vostra azienda realizza tantissimi prodotti conto terzi? Certo, noi facciamo il 90% del fatturato a marchio privato, lavoriamo anche per GDO a marchio privato e l'estero è quasi tutto a marchio del cliente, facciamo sia il packaging sia la ricetta dedicata al cliente, quindi tutto fatto su misura per i nostri clienti. Ora dopo 4 anni avete avuto modo di rivedere tantissime persone che appunto non vedevate da 4 anni, da 48 mesi, quanto è stato duro questo periodo anche e soprattutto per la crisi che il vending e l'OCS ha vissuto nell'ultimo biennio. È cambiato un po' tutto il mercato, è cambiato il modo di comunicare, per fortuna siamo riusciti ad essere vicini ai nostri clienti, ai nostri clienti ad essere vicini a noi e adattare tutte le nuove necessità. È un momento difficile per tutti, come sapete i prezzi, gli aumenti, le materie prime, la guerra e speriamo si risolva tutto al più presto, però insieme ai clienti e insieme anche ai concorrenti che dobbiamo darci una mano tutti e portare avanti al meglio la situazione. Noi ci vediamo, siamo qua. E allora Nicola, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per ricevere maggiori informazioni? Info chiocciola.neronobile.com Perfetto, e allora amici noi vi lasciamo con la curiosità di andare a scrutare il sito neronobile.com con tutte le loro novità per potergli iscrivere e magari prendere un contatto, cercare di avere maggiori informazioni dal loro catalogo e noi continuiamo con le nostre scoperte per presentarvi tutto ciò che di nuovo sta venendo presentato qui a Venditalia 2022. Grazie Nicola. Grazie a tutti, vi aspettiamo presto. Grazie a tutti.